La stazione dei carabinieri di grotteria non deve chiudere. Non appena appresa la notizia della sua soppressione comunicata dal comando generale, l'amministrazione comunale di grotteria ha provveduto a convocare immediatamente un'apposia seduta del Consiglio Comunale Aperto che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala delle adunanze. Ovviamente la soppressione della stazione dei carabinieri è un provvedimento che penalizza oltremodo la comunità grotterese, già penalizzata in passato da una serie di chiusure e soppressioni di uffici pubblici e di enti sovracomunali. Nel caso specifico verrà a mancare un presidio strategico che garantisce sicurezza e legalità in una terra purtroppo afflitta da mali endemici della pervasiva presenza della criminalità organizzata. Dunque l'amministrazione comunale di grotteria, sensibile all'esigenza posta nel tempo dall'arma dei carabinieri, ha contrattato un mutuo con la Cassi da depositi e prestiti al fine di garantire una sede nuova e dignitosa. I relativi lavori di realizzazione dell'opera sono in corso di esecuzione, anche se attualmente il cattiere è fermo per le problematiche tecniche che esulano dalla volontà della stessa amministrazione. Il Consiglio Comunale si è determinato in modo energico, sicuro di interpretare i sentimenti popolari di delusione e d'amarezza di questi giorni. Abbiamo convocato il Consiglio Comunale perché purtroppo abbiamo appreso dal comando generale dell'arma dei carabinieri che la stazione di grotteria viene soppressa. C'è questa richiesta che giace sui banchi del Ministero, sul tavolo del Ministro e quindi noi siamo qui a protestare, a dire ancora di no a questi tagli che vengono fatti da coloro i quali non conoscono il territorio. Noi tra l'altro abbiamo anche investito delle somme non indifferenti per la costruzione di questa caserma. D'accordo con l'arma dei carabinieri, all'epoca, nel 2008, abbiamo trovato insieme a loro dei locali dove costruire questa caserma. Loro ci hanno dato il loro assenso e oggi, dopo tanti anni e tanti sacrifici, apprendiamo questa notizia. Certamente è una notizia che ci penalizza ulteriormente, che penalizza molto i nostri territori. Questo è un centro storico che viene vissuto naturalmente da persone anziane, quindi che hanno bisogno di avere sul territorio la presenza costante dell'arma, perché è vissuto appunto da persone anziane che non hanno neanche figli vicini, quindi sono sole e vivono sole, quindi hanno bisogno di essere tutelati e di avere tranquillità. E solo la presenza costante dell'arma lo può dare. Naturalmente noi protesteremo, faremo tutti quei passi necessari affinché questa decisione non vada in porte, cioè che la caserma ritorni lì nel luogo dove è più idonea, voglio dire, nel centro storico di Grotteria. Quindi faremo tutto il possibile, questo è il primo passo che facciamo, dopodiché mandremo, se possibile, se ci vorrà ricevere anche al Ministro dell'Interno per far ricedere di questa loro decisione. Nella seduta è stato chiesto l'immediato incontro con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il Ministro della Difesa e con l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno, sicuri di trovare interlocutori sensibili ed attenti rispetto alle argomentazioni che si andranno a portare avanti. Grotteria con la sua storia e di grotteresi meriterebbero una stazione dei Carabinieri. In questo saranno sostenuti dagli altri comuni della Valle del Torbido e segnatamente dal Consiglio Comunale di San Giovanni di Gerace.